a me mi sa ecco, ci mettermi nella stessa direzione ok, è arrivato missile flare, flare flare continuiamo così e la vittoria sarà nostra eh dio cane, ma i fl... ma solo i suoi, solo i lore R60 funzionano ma sono i miei eh, di R60 vanno a puttane ma scusa eh ma cazzo ma tutti i posti dovremmo fare dio cane non lo so, io adesso contro il 21 ho visto, non posso più fare un cazzo perchè il mio aereo è una vera merda ecco, vedi, però cazzo, poi devi premiare non devi premiare chi perde, cioè scusa muori con le appuffanate oh coglioni dio cane in che senso ha cioè guarda guarda che st'aereo non ce la fa non ce la fa c'è proprio un aereo che non ce la fa non è neanche il claccio eh no ma è che non è neanche il claccio eh no ma l'amico dove cazzo è scusami ma l'amico dove cazzo è? è in base che stava ricaricando adesso è riporto io che cazzo è successo? ho fatto una laggata generale però se vai verso il basso dovresti riuscire a volentieri ora no perchè non riesco a piegarmi verso lì oh il phantom ha le bombe quindi amen se figurati dimmi te se io mi devo trovare in questa situazione e poi ripeto ma perchè il cazzo di flare hanno deciso che anzi l'era 60 ha deciso che dovevo morire vaffanculo mamma mia